Prefabbricati Crisafi, solidità che dura nel tempo. I nostri prefabbricati, progettati per abitazione civile o residenza estiva, sono di misura variabile secondo l'esigenza del cliente. Ogni struttura viene calcolata staticamente, lo spessore da 90 a 100 mm assicura il massimo isolamento termico e acustico. I manti di copertura sono costituiti da lastre onduline in fibrocemento. La copertura e la controsoffittatura, altamente impermeabilizzate, vengono trattate con olio antimuffa e antitarme. Il rivestimento esterno delle pareti è anch'esso in fibrocemento, mentre il rivestimento interno è compensato, nobilitato da frassino o incompensato perlinato. Gli infissi esterni sono a due battenti, con persiane scorrevoli fornite di chiusura di sicurezza. Sia le porte interne che quella di ingresso sono in pino di svezia verniciato.